Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno. Oggi ristretto fra due festivi, in una giornata in cui cominciano davvero a piovere gli articoli israeliani, gli articoli in lingua ebraica, sull'incidente di domenica scorsa sul Lago Maggiore che ha coinvolto alcuni esponenti dei servizi segreti israeliani. Loro scrivono degli israeliani, poi sappiamo che c'erano anche agenti italiani e probabilmente anche agenti di altri paesi. Però i giornali israeliani su di loro e sul loro dirigente si concentrano, ma articoli dai quali emergono scenari anche inediti, che comunque Ristretto italiano non vi aveva raccontato, su ciò che erano probabilmente venuti a fare e probabilmente a sorvegliare. Cominciò con Khan Ashkelon, il giornale di Ashkelon, che scrive, alla presenza del capo e dei vertici del Mossad, in centinaia hanno accompagnato la gente morta in Italia nel suo ultimo viaggio. È il giornale di Ashkelon perché è stato sepolto ad Ashkelon la gente israeliano, a Scalonia in italiano, che è un villaggio vicinissimo, praticamente il primo villaggio a nord di Gaza sulla strada verso Tel Aviv. I volti dei partecipanti, spiega i servizi sui funerari, avevano in maggior parte il volto coperto da cappelli, da passamontagna, anche da Mephisto e poi le mascherine, le mascherine anti-covid, che comunque per mascherarsi servono abbastanza bene. Quindi molte persone con le identità ancora molto riservate. Tra le altre cose che sono state dette, dice, nemmeno dopo la tua morte si può parlare delle tue numerose, meritorie e significative azioni per il popolo di Israele. Questo l'ho preso da uno dei discorsi che sono stati fatti e che rappresenta bene il ruolo che ancora questa persona aveva nei servizi, benché pensionato. L'articolo che sintetizza i discorsi di tanti parenti, amici e colleghi, precisa anche riguardo l'incidente italiano, che però la censura ha messo molti neri sui dettagli dell'uomo, attribuendogli tra l'altro il nome fittizio di Erez Scimoni e creando la circostanza del compleanno di un collega italiano. Per chi di noi ha seguito la splendida serie televisiva fauda, è un po' più facile intuire quelli che possono essere gli scenari. Ma gli approfondimenti, si dice, sono più numerosi su altri giornali. Per esempio c'è un altro sito israeliano, sempre in lingua ebraica, a dieci minuti, che ipotizza che gli agenti israeliani avessero l'ammissione di seguire alcuni oligarchi russi che avevano proprietà in zona, nell'ipotesi che questi oligarchi russi potessero portare gli agenti a funzionari israeliani con i quali questi erano presumibilmente collegati, insomma che stessero cercando di seguire il flusso di denaro verso Teheran. Noi sappiamo bene come sono tesi i rapporti fra Tel Aviv e Teheran, tra Israele e l'Iran. Dice l'articolo che uomini d'affari che sono descritti come personaggi russi abbiano recentemente trasferito molti loro investimenti dal lago di Como agli hotel di lusso del lago Maggiore. Hotel di lusso anche a sette stelle, scrive B.H. Hall, sempre da Tel Aviv. Non so, dovrei controllare se in Italia le sette stelle sono ammesse. Ad ogni modo che sia un iperbole o che sia la verità abbiamo capito di che cosa si parla. Dice anche che il proprietario della barca, Claudio Carminati, ottima conoscenza della lingua bulgara e marito della donna russa morta nell'affondamento, stesse collaborando con gli agenti, non li stesse semplicemente trasportando in questa vera o presunta festa di compleanno. E poi c'è un altro sito ebraico, JDN, che conferma che la zona dell'incidente è satura dell'attività di oligarchi russi che sono impegnati a triangolare la cessione di droni iraniani a Mosca. L'Iran costruisce i droni, questi passerebbero tramite gli oligarchi che sono sul lago Maggiore, probabilmente farebbero tappa in Svizzera per eludere le sanzioni e poi via per Mosca. Ribadisce anche che il comandante Carminati sarebbe un vecchio e fedele amico dei servizi. E ricorda anche sempre lo stesso sito, la tipica fuga degli 007 con, come vi ho detto parecchie volte, la fuga precipitosa dagli alberghi, la non riconsegna delle macchine a Nolo, ma ora vedo anche la forzatura delle dimissioni dagli ospedali degli infortunati che erano stati ricoverati domenica sera. E ecco, BH All parla anche della vicinanza con la Svizzera, dalla quale sarebbe possibile per gli oligarchi russi confondere ed evadere le cessioni di armi e di tecnologie. La questione poi è anche se l'intelligence italiana fosse solo ospite o anche coinvolta dal momento che il sito ebraico ipotizza anche lo spionaggio industriale. Insomma, ci saranno molte altre cose da scavare, molte altre cose da approfondire, fare la tara e cercare di capire quanto sia il gossip, quanto sia la verità, cosa che probabilmente non scopriremo mai visto l'ambiente, ma è importante continuare a seguire. Quindi stay tuned and wait for il ristretto italiano. Cambiando argomento, Van Minut dalla Francia segnala la morte del re della Bresaola. Si tratta di Enrico Emilio Rigamonti che è morto mercoledì scorso all'età di 92 anni e che appunto era soprannominato il re della Bresaola. La Bresaola, spiega l'articolo francese, è un salume crudo, non affumicato, originario della Valtellina. I francesi lo citano come un affettato che si è fatto strada grazie ai regamonti che lo fece uscire dai confini della Lombardia dove è prodotto della tradizione e lo fece arrivare anche sui loro scaffali, sulle loro pizze e sui taglieri di salumi e formaggi che vengono serviti in bar e ristoranti. Fu proprio lui Rigamonti a sviluppare l'azienda paterna di Sondrio e ad avviarla verso le esportazioni. E io personalmente posso confermare da Emiliano cresciuto in Emilia che fino a 50 anni fa la Bresaola, assieme anche alla sua amica del cuore, la rucola o ruguetta, era sconosciuta anche nella bassa modenese che a pochi chilometri dal confine con la Lombardia. Già 82enne Rigamonti cedette l'azienda ai brasiliani della JBS nel 2013. Veniamo, torniamo alla tragedia dei migranti di Cutro. Info Migrants da Londra scrive un'inchiesta di diversi media indica i fallimenti dell'Italia. L'inchiesta citata è di Le Monde, del Paese, di Sky News, di Suddeutsche Zeitung, di Domani e di Lighthouse Report. Un'inchiesta che indica che le autorità italiane su Cutro non hanno fornito assistenza all'imbarcazione sovraccarica affondata a largo delle coste calabresi il 26 di febbraio. Ci morirono 94 migranti. Il quesito dell'inchiesta è come si spiega che una barca a pochi chilometri dalla costa italiana, sovraccarica e sorpresa da una tempesta, non sia stata soccorsa. A bordo della tante c'erano 200 persone quando si schiantò contro un banco di sabbia sotto riva. Che cosa sapevano le autorità italiane? Già dal pomeriggio precedente, e ancora l'inchiesta che parla, Roma era a conoscenza di elementi che avrebbero dovuto fare scattare i soccorsi. Poi c'è stata la segnalazione di Frontex alle 22.26, ovvero sei ore prima del naufragio. Per sei ore nessuno si è mosso. Frontex si difende affermando che il suo compito è solo quello di segnalare e non di salvare, e quello di Cutro rimane uno dei più drammatici naufragi della storia italiana. Concludo rimanendo in Francia con l'opinion che titola offensiva italiana per rendere la maternità surrogata un crimine universale. La lotta è quella di Meloni con la sua ministra Noroccella. L'opinion conferma che la commissione giustizia della camera ha approvato il testo che prevede fino a tre anni di carcere e da 600 mila euro a un milione di euro di multa e con la gestazione universale che diventa con la gestazione per altri che diventa un crimine universale anche se commessa fuori dal territorio italiano. Spiega l'articolo che questa è una battaglia da sempre identitaria per la destra italiana là dove più di tanto non può fare per l'economia. Si concentra a accontentare il suo elettorato sulle questioni identitarie del resto Meloni dice siamo tutti nati da un uomo e da una donna. Cosa centri con la gestazione per altri? Non si capisce gestazione per altri che anche se qui viene messa a fuoco la piccola percentuale di coppie omosessuali che se ne serve la gestazione per altri che per oltre l'80% è utilizzata da coppie eterosessuali. Comunque il voto finale alla camera in aula sarà il 19 di giugno dopodiché sarà impossibile registrare bambini provenienti da famiglie omogenitoriali e i genitori potrebbero perdere anche l'autorità genitoriale. Poi ci si chiede come possa dimostrare l'autorità inquirente che il figlio che la coppia presenta non è figlio di uno dei due se la gestazione per altri comunque prevede che i gameti vengano dalla coppia ordinante. Le opposizioni dicono, quello che già avevo riferito poco fa, me l'ho fatto questo appunto, le opposizioni sottolineano come la destra cerchi di marcare il campo sui diritti non avendo un grande margine sul fronte economico. Concludo qui il ristretto di questo sabato italiano. Vi auguro un buon weekend e noi ci si risente lunedì prossimo.